Ciao a tutti, oggi vi parlerò del P-Line Fluorocarbon. Come tutti sappiamo le caratteristiche dei fluorocarbon sono estrema resistenza all'abrasione, un filo che ha un indice di rifrazione molto simile all'acqua, quindi praticamente invisibile e nella nostra pesca importantissimo è un filo che ha un peso specifico superiore rispetto ai nylon. Il filo affondando praticamente ti consente un maggiore controllo sull'esca siliconica. Questo fluorocarbon in particolare lo utilizzo soprattutto nella pesca a pitching, come possiamo vedere, nella pesca a jig e nella pesca a flipping, perché è un filo avendo una resistenza all'abrasione molto potente, ci consente di estirpare i pesci dalle cover, dai cannesi sotto i puntili. È un filo che non mi tradisce mai e che vi consiglio a tutti.